Accudisco Elisabetta. Ogni giorno ormai da dieci anni vengo in questa casa a lavorare. Accudisco Elisabetta malata nel corpo e nella psiche. Elisabetta non si esprime e la curo anche nel respiro. La prima volta che venni qui mi dissero che aveva il cervello di un bambino di un mese. Ma col tempo e grazie all'amore Elisabetta ha trovato dei modi tutti i suoi per comunicarmi i suoi bisogni elementari. Il mio è un lavoro ma mi sento privilegiata ad accudire ogni giorno Elisabetta che mi regala profonde riflessioni anche se non può con la sua mente. Grazie Rachele. Grazie a tutti.